Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Anche oggi abbiamo scelto una delle pietre miliari della spiritualità occidentale cristiana, uno dei campioni del cristianesimo, Sant'Agostino. Insomma, continuiamo a stare sul pesante. Siamo sul pesante, ancora questa parola, pesante. Ma perché è tutto così pesante per voi del futuro? Avete problemi con la forza di gravità? Ho scelto questa frase, mi sono imbattuto in questa frase che mi ha fatto molto riflettere, perché secondo me ci restituisce bene il senso quotidiano. Sapete bene che uno degli aspetti su cui più insisto è proprio la quotidianità del pensare, del parlare, dell'agire, la quotidianità della ricerca, la quotidianità dello sviluppo, delle proprie potenzialità, la quotidianità della realizzazione, cioè il fatto che i processi di realizzazione certamente sono costruiti nell'ideale, ma per diventare reali necessitano di un processo che ha a che fare con il tempo. Questo tempo ha a che fare con giorni, settimane, mesi, ore, minuti, istanti. E noi siamo sempre qui nella strada della realizzazione. Ogni giorno, ogni giorno va creata la nostra realtà, ogni giorno va costruito il nostro mondo e ogni giorno bisogna combattere con tutte le energie negative, gli influssi negativi contro gli ostacoli, bisogna combattere contro la mente, bisogna combattere contro gli eventi, saperli gestire, saperli comprendere. Non è facile, ma se fosse facile tutti lo farebbero. Non è così. Del resto, citando il maestro Napoleon Hill, non esiste, non esiste, cito testualmente, qualcosa in cambio di niente. Pagare il prezzo è uno dei punti essenziali della costruzione, della propria vita completa, qualunque sia il nostro obiettivo, in qualunque ambito, in modo sano, cioè seguendo i criteri sani della crescita personale, raggiungere il vero successo, raggiungere la vera abbondanza, raggiungere la vera stabilità nelle relazioni, eccetera. È proprio di quotidianità. Parla Sant'Agostino. Tanti e tanti secoli fa, ma sembrano parole scritte proprio per questo, per tutti noi oggi. Perché, come ho avuto occasione di dire nei giorni scorsi, c'è chi la fa troppo difficile, ma c'è anche chi la fa troppo facile. Non è così difficile, ma non è affatto facile. Richiede impegno, richiede disciplina, richiede il nostro cambiamento, richiede il nostro sforzo e richiede, come disse il saggio Ray Kroc, perseveranza. Allora, so cosa state pensando. Come diavolo fa un uomo di 52 anni, al tramonto, rappresentante di macchine per frappè, a fondare un impero del fast food con 1600 ristoranti in 50 stati, 5 paesi stranieri e un'entrata annuale che viaggia intorno ai 700 milioni di dollari. Una parola. Perseveranza. Proprio di questo parla Sant'Agostino. Parla in maniera chiarissima della differenza tra il vedere il proprio obiettivo e sentirlo. Quel momento bellissimo, aurorale, quel lampo che ci mostra la certezza del risultato e poi raggiungere il risultato. Ve lo dico prima in latino. Aliud est de silvestri cacumine videre patrium pacis et aliud tenere viam illuc duecentem. Confessioni, libro VII, 21. Ed ecco il passo completo in lingua italiana. Altro è vedere da una cima selvosa la patria della pace e non trovare la strada per giungervi. Frustrarsi in tentativi per plague e perdute sotto gli assalti e gli agguati dei disertori fuggiaschi guidati dal loro capo leone e dragone insieme. e altro tenere la via che vi porta presidiata dalla solerzia dell'imperatore celeste immune dalle rapine dei disertori dell'esercito celeste che la evitano come il supplizio. tenere la via tenere la via se teniamo la via raggiungiamo senza alcun dubbio la nostra destinazione. bene cerca di portare in azione queste parole queste frasi questi insegnamenti nella tua vita di oggi affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso di energia di motivazione di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te non cedere mai alla mediocrità ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te a domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna contro il logorio della vita moderna per un'altra dose Grazie a tutti